ogni gara nasconde un'insidia diversa secondo te la trasferta di Verona quale insidia nasconde? ma tutte le paio penso che dall'inizio dell'anno si sia visto che è un campionato veramente equilibrato dove ogni partita è difficile è chiaro il Verona fa parte delle squadre più attrezzate di questo campionato quindi sappiamo che sarà una partita difficile ma credo che abbiamo tutte le carte in regola per andare a fare un gran risultato sono a completa disposizione del mister posso fare entrambi i ruoli quindi non ho preferenze dove il mister decidi di impiegarmi io darò il massimo avete già cominciato a preparare questa partita mancano ancora alcuni giorni di allenamento vi ha detto qualcosa di particolare Pillon sul prossimo avversario? adesso stiamo svolgendo ieri più che altro una sessione atletica nei prossimi giorni poi cominceremo a parlare più dell'aspetto tattico di quello che sarà la partita Leonardo ti prenoti per la nona? ma vediamo sicuramente sicuramente un attaccante deve scendere sempre in campo per provare a far gol ma credo che la cosa principale sia aiutare la squadra a fare un grande risultato poi se arriverà il mio gol meglio ma l'importante risultato è la squadra a livello personale sta andando bene sono contento di questo ma sono contento ancora di più dell'andamento della squadra che credo sia molto positivo grazie a tutti grazie a tutti